L'ASP di Ragusa aggiunge un altro tassello all'assistenza sanitaria territoriale. Ieri mattina infatti sono stati consegnati i lavori per la realizzazione della Casa di Comunità di Acate, uno dei 39 interventi tra opere edili e grandi apparecchiature previsti dalla missionese del PNRR. L'importo complessivo è di 927.000 euro, di cui 746.000 a valere sul piano nazionale di riprese e resilienza, e la parte restante sul bilancio aziendale. Il responsabile unico del procedimento è geometra Giorgio Frasca. La consegna dell'opera hanno partecipato fra gli altri, il direttore generale dell'ASP Giuseppe Drago, il direttore sanitario Sara Lanza, il direttore amministrativo Massimo Cicero, la responsabile del distretto sanitario Calmera la Terra, il direttore dei lavori ingegnere Antonino Abate, i rappresentanti dell'impresa giudicataria, presenti inoltre il sindaco di Acate, il Gianfranco Fidone, il senatore Salvo Salemi e l'onorevole Giorgio Assenza. La Casa di Comunità sorgerà nell'edificio di Via Vittorio Veneto, sede dell'attuale poliambulatorio che andrà incontro a interventi di riqualificazione ed efficientamente energetico. Verranno rifatti infatti tutti gli impianti elettrici e di climatizzazione. Inoltre verranno sostituiti gli infissi esterni e rifunzionalizzati i locali. Con quella di Acate abbiamo consegnato i lavori per otto delle nove case di comunità previste in provincia di Ragusa, dice il direttore generale dell'ASP di Ragusa Giuseppe Drago. Siamo in linea con gli obiettivi fissati dalla direzione strategica e dal servizio tecnico-aziendale. L'obiettivo è completare tutte le opere entro la fine del 2025, rispettando così le scadenze fissate dal PNRR.